Eccoci su Resident Evil 4, e nell'ultimo episodio siamo andati a pesca di tonni Episodio? Carta Di carte Ma io mi ricordo che qua c'era un filmato di Ada, come si faceva a farlo rifare? Basta rifare Ti ha fatto proprio lo yet Ovviamente non lo conosce perchè voi i meme proprio non gli succede Anche se ti l'ho fatto scaltare ad Alessandro Tette Scusami a sto grampino dove l'ha attaccato sei lì, già c'è il tento dopo quella finestra Vedati, non lo vuoi sapere C'è una nuvola Mi sembra veramente che ho sempre cose oscene, dici mamma mia Io non ho tanto niente se ne vuoi che l'ho detto Eh vabbè l'hai fatto intendere Vero Claudio? Ma manchiamo adesso fuori c'è la motosega che aspetta Allora vediamo se siamo fortunati Qua c'è un uovo Porco Dio E a destra c'è qualche cosa, una granata forse Entra pure nei bagni, non mi ricordo Ah, c'è un uovo Ma l'affan... Mi pare che è quello Lo ha disturbato Cioè scusatemi, la cartigenica a cosa serve qua? Uno come caga, porco Dio Per lo più tu hai la botti la cartigiana che non è un rinatoio Esatto Non c'è bisogno di bestemmiare comunque Un falteo! Brrubbrrub Brrubbrrub La morte di Claudio Prima che a tagliare la minchia Oh Oh K Non individare No E invece sono stato un pro Hai già ucciso? Sì Che ci vuole? Ok Adesso arriva la moglie di qua Un chiamato è double headshot, bitches Fizio di violenza sulle donne I treasure li abbiamo presi tutti, ok Che fai sur Mi chianto sei zallo Fai aaaaaaah Mi si fermi si fia Oh Cosa? Porco Dio Questo l'ho capito No! No! Ci daranno prima o poi primo poi hai detto proprio poi però prima ho detto anche prima vedi questo capito lo muore c'è tutto il villaggio da fare vabbè qua corri ma in teoria qua ci sono pure le cose di nuovo le cose mi pare anche con la fascia mangiate in cazzo di pesce infilate in gola il pesce ma Claudio per favore uccidano non so quanto sia utile ma quanti cazzo sono sti contadini sono sempre gli stessi ma non è vero ma non è vero sempre i soliti quattro nemici diversi boh uccisi tutti questo mi ha droppato l'incendiaria perfetto ciao ti faccio cadere no non è caduto mi ha droppato che cazzo ok ti dicevo no è ma che cazzo ah no qua non c'è più niente allora possiamo andare si devi disperire il sentiero verso sopra grazie no adesso c'ho la chiave io devo entrare di qua giusto o sbagliato non mi sto ricordando c'è la chiave allora non ho visto metà del gameplay non rompermi eh gli era morto internet ecco dicevo che fine ha fatto che abbiamo insultato per tutto il tempo thank you non è vero Claudio l'ha fatto o no dietro di te cosa dietro il magic eh adesso spuntano i nemici appena scendono ma va non ci sono nemici qua ci sono i nemici con Ada io non mi ricordo che scendeva un obmude hai tuoi ah green l'am strange non era morto no no thank you non sta bene comunque mettere nel boccale gli occhi di gatto Prendi il fucile di precisione Poi quando vuoi No io di solito non lo prendo mai qua Certo ti prendi la mitraglietta ma non il fucile di precisione Complimenti Poi vedere come ce la fai contro il gigante No contro il gigante io l'ho fatto sempre con la mitraglietta Comunque Ok ragazzi Qua mi serve ricordare dove erano I emblemi No Non cercare i emblemi Così ti puoi cambiare la pistola vuol dire Sì perché quello lì è gratuito Ecco Senti oh porca madonna Guarda Che cazzo Ma che cazzo è successo Ovviamente Suppongo che tu abbia delle cure No non ho capito cosa sia successo No Non si lanciano oggetti all'agenza Che sia chiaro ultimo avvertimento Porco dio il demonio E comunque gli emblemi sono anche alla fattoria Dove dove dovevi andare Eh l'ho già presi alla fattoria L'ho presi Sicuro eh vabbè io non c'era tutta quella parte Era staccato con l'internet Porco Porca madonna Porca madonna Accio 9 10 10 Ce n'è uno dietro la ghietta Thank you Grazie amico Porco Mi piace collaborare Ma dopo ci sono i cani Minchia No dopo I lupi C'è questo E forse un altro Che è sul tetto della chiesa Se non sbaglio Sulla parete Porco Porco Lo stavi mancando di nuovo Proprio il laser Ragazzi vi ricordate qua l'enigma Ehm Più o meno No Io per niente Io forse sì Forse Forse sì forse no Che culo Penso che quello lì veramente si uccideva sul colpo Perché a vita gialla non penso di risparmia No infatti moriva E qua dovrebbe essere forse Ehm Ehi oddio Mi sto ricordando se era 3 3 3 4 3 3 2 Allora 3 Poi 3 3 4 E poi Qua No Aspetta Ehm Oddio Dovevi prendere l'ice Quella in alto Giusto? Z L'ho fatto incazzare Leon Leon Did I mention not to take the scenic route? At any rate Ashley's probably inside that structure Rescue her Hurry Che l'ho fatto incazzare Aspetta Dove cazzo Cerola è? È il gigante Qua c'è Qua c'è E' passato Qui do lo tre Sotto al ponte Qui c'è un altro emblema Eh Però mi serve Caricare G Qua ce ne sono pure tre Adesso vediamo come fare Ok ok Ce l'ho comunque Il gigante Cosa Certo Cerchiamo E che vuoi Tu non lo stai cercando nemmeno Che cazzo vuoi Cosa? Cosa c'hai Algi? Quella lì Che serve dopo Per L'emblema Della chiesa Prima però bisogna Trovarlo Vabbè ma ce n'era Anche un giro Più semplice Qua ne fanno Proprio lunghissimi Troppi giri lunghi Io mi vorrei Ce n'era Uno più semplice Per attivare Quel cosa Vabbè L'importante Arrivare Alla Aspetta che Riprendo gli emblemi Un attimo Minchia Certo che i caricamenti Sono istantanei Minchia Nella play 2 Ci stava tipo Mezz'ora Di una trotta Minchia Porco dio C'è quello in basso E l'ultimo Dov'era? Eccolo Liscio Liscio Porco dio Questi emblemi Stanno diventando Difficile Zio porco Leon si muove Come una checca Porca madonna Guarda Ne bastano Quanti ne hai presi? 15 Così c'ho la pistola pure potenziata Potenziata? La t'aveva potenziata? Sì Se li trovi Tutte 15 Te la da potenziata La pistola Spiegati Chi l'ha presi Già a 12 O a 10 Allora Non è vero Secondo me Dice una cazza Da cosa Sì Però per me No Adesso te lo faccio vedere Se tu ne prendi 10 Ti dà la pistola Se invece Te ne prendi 15 Ti dà la pistola Con un potenziamento Alla potenza Eh minchia Minchia Che una pistola Che butti nel cielo Vabbè L'unica che penetra Attraverso Sì Che cosa sono queste parole? E nemici E penetra Penetrazione Si proiettile Penetra come un Un pene Per questo Di una penetrazione Oh mio dio Secondo me Perché l'hanno chiamato pene In vero Ah Uh C'ho pensato Questa cosa Aspetta Di queste bastasaggini Qui È un Family Friendly Questo gioco Soprattutto Gempli di Cloud Giusto Porco Porco Dio Porca madonna Stava di Vedo Quelle Granate messe A Come si Guarda Come E non c'è bisogno Di niente Sali sopra Adesso Dove c'è il mercante Sposta le casse Prendi i tesori No Non lo posso fare Lo posso fare dopo G Io ti insulto Io ti insulto Perché non si può fare ora? No Non puoi Perché Sistemati queste cazze Ma che c'è? E boh Comunque Anche questo episodio È finito Beh Con cimmi che bestemmia Episodio Basta Impara A pronunciare In maniera corretta Episodio